Oggi la pasta di cellulosa naturale e acrilica Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi conosciamo un materiale meraviglioso dal sapore artigianale e antico ma nello stesso tempo attualissimo e divertentissimo utile per grandi e per piccini nelle sue diverse declinazioni ma prima di spostarci sul piano da lavoro per creare la nostra pasta di cellulosa il nostro stucco di carta possiamo anche definirlo vi chiedo un pollice in su e una condivisione sulle vostre pagine facebook se credete che i contenuti di Arte per Te possano essere validi vi aspetto tutti su facebook per tre video al giorno quindi il link lo trovate qui sotto comunque cercate sempre Arte per Te pennello bianco su fondo rosso e vi aspetto tutti su instagram su instagram da quest'anno potrete essere parte del video di Arte per Te basterà taggarmi con l'hashtag arte per te video per mostrarmi una vostra creazione le creazioni che più mi stupiranno colpiranno io le porterò in video tramite una foto farò vedere la vostra creazione e vi citerò in video spero che questo vi faccia fare parte ancora di più della nostra famiglia creativa virtuale il corso di disegno ricomincerà tra poco ma su facebook tutte le notizie le darò di qui a breve su facebook quindi vi aspetto sulla pagina facebook di Arte per Te il link qui giù adesso basta parlare e andiamo a preparare la nostra pasta di cellulosa ed ecco l'occorrente per creare il nostro stucco di carta naturale ed acrilico per lo stucco di carta naturale ci occorrerà della tilose la colla di carta fatta appunto anch'essa di cellulosa e della polpa di cellulosa questa è polpa di cellulosa raffinata cioè quella che vendono industrialmente come vedete la grana è molto molto sottile ed è veramente ben ben triturata e con questa viene una pasta di cellulosa molto molto raffinata da restauratori diciamo così se invece vogliamo avere una stucco una pasta di cellulosa una pasta di carta diciamo così homemade possiamo creare la nostra polpa di cellulosa così come vi ho fatto vedere in questo video è unirla a della vinavil lo stucco di cellulosa per rimanere bianco avrà bisogno dell'aiuto di un colore acrilico perché sennò tenderà ad avere un colore un po' translucido grigio lino quindi se la volete assolutamente bianca aggiungete dell'acrilico e la possiamo colorare in tutti i colori che vogliamo con gli acrilici comuni questo non ve lo consiglio nello stucco di cellulosa naturale che si usa ad alti livelli che oggi vi faccio vedere solo per completezza ma che non vi consiglio di utilizzare mentre è pratica comune farlo nello stucco di cellulosa acrilico che serve per decorazione delle spatoline un piattino per stemperare lo stucco della carta su cui provarlo e degli stencil quelli con uno spessore di un paio di millimetri perché proprio danno corpo allo stucco ma andiamo per ordine versiamo un po' di polpa di cellulosa sul piatto ecco qui e dopo aver mescolato bene prendiamo un po' di tilose e amalgamiamo insieme le due paste lo stucco in pratica è pronto si presenta come un normalissimo stucco si asciugherà molto velocemente quindi prendiamo un biglietto che vogliamo ornare prendo lo stencil che voglio utilizzare lo metto lì dove voglio che sia e immetto il mio stucco così a spatola facendo attenzione a colmare tutti i fori che mi interessano elimino l'eccesso e tiro via voilà pulisco lì dove ho sbordato questa decorazione non è una decorazione comune è una decorazione fatta di carta quindi dopo l'asciugatura sarà della stessa sostanza del foglio quindi potrà essere piegata senza che si frammenti se voglio farlo ancora più ricco faccio anche la parte superiore è anche molto semplice da stendere l'importante è proprio stare attenti che si vada in tutti gli orefizi del mio stencil tiro via la mascherina e voilà tiro via il foglio dal piano da lavoro lo pulisco semplicemente con le dita non è nulla di tossico e voilà guardate che biglietto decorato spettacolare ora quanto vi chiederebbero per fare un biglietto di questo tipo vi chiederebbero l'inferno perché è un biglietto assolutamente artigianale fatto a mano bellissimo tutto in cellulosa mentre a casa si può fare i prezzi della tilose e della cellulosa ve li metto qui giù in info box ma avete visto quanta poca tilose cioè io ho usato 5 grammi 6 grammi di tilose per fare tutta questa colla e posso fare veramente molto molto stucco adesso la metto su di un piano orizzontale a rasciugare e la vedremo tra un po' la cellulosa e la tilose essendo grane molto 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 sottili permettono anche dei decori più certosini che non la polpa di cellulosa fatta in casa e allora noi ne approfittiamo e freggiamo questo biglietto in maniera certosina appunto con dei micro decori e con una spatolina piccola in questo caso inserisco il mio decoro che sarà un decoro più raffinato di quello che nel senso raffinato più sottile di quello che ho fatto prima quindi vado su tutti i bochini stando attenta a non fuoriuscire sulla carta anche se basta una ditata per toglierla cellulosa e rimuovo wow non so se riuscite a vedere voilà come si pulisce con l'acqua si pulisce tutto con l'acqua perché una delle grandi virtù ma anche dei grandi limiti di tutto questo stucco ovviamente è che è solubile in acqua proprio come la carta perché è di carta e vi faccio vedere la meraviglia che viene fuori e guardate che biglietto io non so se riuscite a vedere con i chiaroscuri vediamo spengo una luce eccolo qua così lo vedete bene ora ditemi se non sembra quasi antico che è una meraviglia una meraviglia è un qualcosa di artigianalmente autentico meraviglioso prezioso passiamo adesso però alla pasta di carta acrilica per creare la pasta di cellulosa acrilica invece prendiamo della cellulosa homemade vedete questa è molto più grossolana molto più spessa ma non importa ovviamente la pasta di cellulosa acrilica potete farla anche con la polpa di cellulosa comperata cioè questa super raffinata e vi verrà quindi una texture più morbida più leggera ma io voglio una texture invece che sia più cotonosa diciamo così che mi faccia vedere proprio il filamento della carta proprio per goderne appieno avendo messo infatti un acrilico cioè una vinavil mi serve che la carta si renda più palese per fare capire che comunque è un qualcosa di artigianale se no mi verrebbe qualcosa di molto plasticoso come lo stucco naturale anche questo comunque seguirà i movimenti della carta e non si frantumerà perché la vinavil la colla vinilica è una colla che crea un film plastico gommoso e quindi non rigido ma flessibile e quindi seguirà le pieghe della carta agevolmente qui si rende necessario l'utilizzo di un po' di acrilico bianco per sbiancare la pasta perché l'acrilico asciugando diventa traslucido e quindi assumerebbe quel colore un po' trasparentino che non è bello a vedersi questa pasta potete anche colorarla con gli acrilici di qualunque colore ma adesso lo faremo insieme che ne dite e in questo caso ripropongo tutto il fiore bene al centro tirate via voilà bellissimo ora vi faccio vedere la differenza tra questo e quello guardate le barbe della carta che vengono su guardate che belle ora voi o le appiattite ma io vi dico no grazie o le lasciate così asciugheranno semi rigide dando un effetto neve un effetto stupendo al vostro biglietto che risulterà bellissimo più impreciso dell'altro ma proprio per questo anche più affascinante coloriamo la pasta e vediamo che nesce e questo nel frattempo lasciamolo asciugare parliamo ne allora e non è sullo stesso piano della carta non è come dipingere è aggettante e si vedono gli spuntoni di carta che vengono fuori non so se riesco a farveli vedere che danno proprio l'idea che sia la carta sfrangiata ora ditemi se la pasta di carta o stucco di carta non è meraviglioso nella sua forma naturale o nella sua forma acrilica entrambe bellissime l'una più preziosa l'altra più da decoro e più low cost ma entrambe stupende e vi faranno fare cose uniche ed irripetibili seppur con gli stencil bene che sia acrilico o naturale lo stucco di cellulosa la pasta di cellulosa è veramente fantastica adoperata per la decorazione rende unici i vostri manufatti vi lascio alle foto e ci vediamo dopo per le ultime considerazioni ciao 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 visto che magiche applicazioni io vi ho fatto vedere le applicazioni più per adulti ma immaginate con i bambini e le dita cosa potete fare orme impronte oppure dei fiorellini in negativo facendo pressare col ditino sopra la polpa di cellulosa una cosa 100% biodegradabile nella sua componente naturale lo stucco di cellulosa fatto con tilose e polpa di cellulosa o al 98% biodegradabile con vinavil e polpa di cellulosa homemade o industriale insomma è un materiale veramente eco friendly un materiale antichissimo un materiale dal sapore artigianale artistico veramente importante potrete stupire creandovi vi ho fatto vedere qui un'applicazione semplice con gli stencil dei biglietti meravigliosi dal sapore antico è eterno in un certo senso quindi sbizzarritevi ma se il video vi è piaciuto non dimenticate prima di andarvene di regalarmi un pollice in su e una condivisione se i contenuti di arte per te vi aiutano a scoprire cose nuove voi ricambiate per favore aiutando arte per te a scoprire nuove persone e allora grazie se lo farete noi ci rincontriamo sempre qui per un prossimo video da ombretta e da arte per te è tutto alla prossima scoperta ciao ciao